Volevo sapere se c'erano le mascherine nel pomeriggio, grazie, addosso. Servono per entrare nei negozi, nei supermercati, servono in ogni luogo pubblico in cui la distanza interpersonale di sicurezza rischia di accorciarsi. Obbligatorie per legge ma ancora difficili da trovare, le mascherine chirurgiche sono il cruccio di cittadini e farmacisti. La distribuzione gratuita di quelle della regione funziona, pacchi di 5 mascherine che vengono dati ad ogni titolare di tessera sanitaria fino ad un massimo di 30 mascherine al mese. Sono richiestissime ma rientrano con regolarità e se la mattina sono esaurite il pomeriggio tornano ad essere disponibili. Il fastidio è di dover fare più viaggi in farmacia. Lei è venuto a cercare mascherine? Sì. Le hanno date? Ma ci sono. Si, richiedeva quelle della regione, gratuite? Sì, quelle lì. Si aspettano quelle, almeno, l'hanno detto. Il vero problema è rappresentato dalle chirurgiche, che il governo aveva annunciato che sarebbero state al prezzo calmierato di 50 centesimi, più IVA, quindi 61 centesimi. Ma il calmiere è stato applicato ai rivenditori, quindi ai farmacisti, e non alla fonte, cioè ai fornitori. Con il risultato che ci sono farmacisti che per vendere a questo prezzo le mascherine dovrebbero addirittura rimetterci. Io personalmente, nelle nostre farmacie, riusciamo a mantenere sto prezzo di 50 centesimi più IVA, perché abbiamo dei fornitori particolari che ci servono da anni, non ci hanno abbandonato. Facciamo pari, però. Capisco benissimo la difficoltà dei colleghi che trovano nel reperire il prodotto, perché sinceramente reperire mascherine per poterle vendere a quel prezzo è quasi impossibile. Nelle farmacie che TV Prato ha visitato, mascherine a 50 centesimi non ce n'erano. Qui in farmacia per il momento non si trovano. Le uniche mascherine che riesco, almeno io, personalmente a trovare sono quelle della regione, che grazie a Dio fa un servizio utile a tutta la popolazione e ai cittadini. Ci sono poche richieste per quelle fuori regione, ormai vengono a chiedere tutte quelle che distribuisce la regione. Del resto, se chi vende mascherine ci deve rimettere, è chiaro che non è incoraggiato ad approvvigionarsene. Poi c'è chi aveva fatto scorta sul mercato di chirurgiche, alcune delle quali pagate anche 1,30 euro l'una. Alcuni farmacisti ne hanno scatoloni interi, ma col calmiere a 50 centesimi sono completamente svalutate. C'è stata questa corsa alle mascherine, praticamente i prezzi sono andati alle stelle, quindi ci siamo dovuti adeguare a quello che il mercato ci imponeva. Io personalmente parlo per quello che mi riguarda, non ho avuto perdite, però ecco ci sono dei colleghi che magari hanno ancora grandi giacenze. I fornitori hanno voluto quasi tutti essere pagati in anticipo e quindi questi soldi sono usciti e speriamo che rientrino. È stato raggiunto appunto da Federfarma l'accordo col governo, dovrebbe esserci un rimborso sulle giacenze rimaste.